Io non so quanti di voi stiano seduti in questo momento, se siete in piedi sedetevi, nel senso che non vorrei portarvi sulla coscienza, ma siamo ai dettagli, almeno per quanto riguarda il post di Gianluca Di Mazio, per Buffon al Paris Saint Germain. Ed è una di quelle notizie che da youtuber, da persona che fa video su youtube, io non avrei mai voluto dare veramente, perché sono delle notizie ingrate che mi fanno stare male vicino alla telecamera e lo potete guardare dalla faccia. È una notizia che sicuramente non farà piacere ai tifosi guentini, è una notizia che deluderà molti tifosi guentini, altri capiranno la scelta di Buffon, altri invece la contesteranno. Sto leggendo sui social network un sacco di insulti rivolti a Buffon, lo dico chiaramente, ragazzi, piantatela. Piantatela perché comunque è sempre Gianluigi Buffon, è sempre la stessa persona che insieme agli altri rimase in Serie B nel 2006 da campione del mondo e sarebbe potuto andare ovunque. Vi invito a spostare invece l'attenzione su quello che è accaduto con Buffon, che è quello che è accaduto con Del Piero, cioè bandiere che arrivano a una certa età, vengono scaricate dalla società e poi vengono contestate se vanno a giocare altrove. Forse qualche domandina alla società sui parametri di far restare qualcuno o no va fatta. Io vi invito semplicemente a contenervi, nel senso non andate sotto i profili social di Buffon, sto vedendo gente che va su Instagram e offende Buffon. E quindi no, non andate, non andate lì. Io veramente, come potete notare, sono in una situazione un pochino particolare perché non mi son preparato il video, lo dico proprio a cuore aperto e quindi è una situazione un pochino imbarazzante. Si parla di un biennale, si parla di un biennale da 7 milioni di euro a stagione, quindi uno stipendio superiore a quello che Buffon guadagnava alla Juve, si parla di un obiettivo che è la Champions League da parte del Paris Saint Germain e si parla di un giocatore che ormai potrebbe tentare l'assalto alla Champions in questo modo. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate voi, non sarà l'unico video che arriverà a suo Buffon in questi giorni.